Se hanno altro di meglio da fare che assolvere al proprio ruolo di consiglieri comunali per cui sono stati eletti, si facciano da parte. Questo è il commento dell'opposizione a quanto accaduto ieri in consiglio comunale di Fano, dove la maggioranza ha fatto mancare il numero legale facendo sospendere la seduta. Questo dimostra la poca attenzione che questa amministrazione dà alla città, non solo per questo che è accaduto ma anche per tutti gli atti, i non atti che non vengono appunto in consiglio comunale. Quindi anche in questo caso ha perso l'occasione di dimostrare alla città la propria attenzione. L'opposizione è compatta. Mentre si discutevano le mozioni per il rilancio del turismo cittadino, la maggioranza ha evidentemente preferito dedicarsi ad altro, dicono. Quindi che si facciano da parte e lasciano spazio a chi ha un interesse a collaborare per il bene della città. I consiglieri di maggioranza hanno il dovere morale di assicurare il numero legale e regolare il procedimento delle sedute. Anche ieri sera, concludono, sono andati in fumo diversi soldi pubblici per la convocazione di un consiglio comunale che non ha deliberato nemmeno quel poco che si poteva. Diciamo che la dimostrazione oltre a questo è anche una città come Fano, una terza città delle Marche, non si può lavorare part time. E questo comporta appunto quello che non viene fatto per questa città. Non c'è nessuna linea programmatica e non c'è niente. Grazie. Grazie. Grazie.